pochissime parole mie che tengono luogo anche dei saluti del presidente dell'Istituto di Scienze, Lettere e Arti e anche del vicepresidente Claudio Consolo che per un impegno inaspettato non è qui mentre era invece presentissimo ai due giorni che hanno preceduto questi celebratisi all'Accademia dei Lincei il 16 e 17 gennaio è stato un bellissimo incontro in quel caso organizzato dal solito comitato ordinatore che è presente in ogni convegno delle accademie ma in particolare dal professor Capogrossi Colognesi e per accordo nostro ma su indicazione generosa sua avevo io lì introdotto l'opera di ripubblicazione che ci vede coinvolti relativa a De Francisci e ce l'avevamo altrettanto accordati nel senso che oggi aprisse il convegno proprio di professor Capogrossi Colognesi apparteniamo alle due istituzioni culturali quindi ci sembrava anche bello palesare uno scambio culturale in modo plastico. Molto si è detto in quella sede rispetto a De Francisci un uomo dalle mille sfaccettature che comprendono anche un impegno politico e anche governativo che oggi potrebbe suscitare non poche perplessità in chi non guardasse a tutto tondo questa figura che dal punto di vista della scienza giuridica e romanistica in particolare è stato invece un punto di riferimento che a Luigi Capogrossi Colognesi ma anche a me perché ne conoscevo la figura fin da neolaureato bene ci sembrava inopportuno lasciare nell'oblio dove era invece rimasta a dispetto invece di altre figure che sono state rinobilitate nel recente passato tutto questo lo si può ancora risentire perché ho scoperto che tutto ciò che avevamo detto a Roma viaggia su internet e non so bene come vi si acceda ma insomma si può tranquillamente riascoltare si si quindi ieri Mauro Grondona un civilista colto di Genova mi ha scritto una mail dicendo anche avete detto bellissime cose dovrebbero anche rifluire nelle riviste di diritto positivo e termino questo mio ma insomma non è un intervento è semplicemente un saluto a tutti voi perché non so bene se noi abbiamo allora devo fare una premessa nelle mie presentazioni dicevo ma insomma il vero pericolo non è la perdita del diritto romano senza il quale si può far benissimo non lo stesso però si perde la dimensione uno delle componenti forti della dimensione scientifica del diritto perdere la dimensione scientifica del diritto significa perdere stampelle notevoli che vanno a vantaggio della sicurezza delle regole di tutti noi ma significa perdere anche la dimensione culturale del diritto significa io dicevo uscire inesolabilmente dalla terza pagina perché quando ero al liceo era quella quella della cultura del Corriere della Sera e Mauro Grondona mi ha mandato a questo proposito poi lo farò girare un articolo apparso sul Corriere della Sera a firma di De Francisci nel quale rivendica la dimensione scientifica del diritto e prende anche le distanze da un certo modo di prospettare il diritto romano in Germania quindi insomma gli sembrava che questa cosa confermasse via più il pericolo che si corre oggi ma anche l'altezza della figura di cui stiamo anche oggi per parlare soprattutto esclusivamente dal suo punto di vista quale figura che troneggia nel campo della scienza giuridica insomma di quella scienza che corriamo il rischio di perdere inesolabilmente programma di oggi apre dunque Luigi Capogrossi Colognesi e io so che ci parla di una cosa inedita di straordinario interesse un carteggio poi facciamo un'inversione di programma non a Fulvio Cortese che è un recente preside non si chiama così tecnicamente di giurisprudenza di Trento ma amministrativista di Vaglia ma anche membro del Consiglio Universitario Nazionale lo posponiamo visto che ha un treno in ritardo facciamo parlare Paolo Lambrini e Paolo Zigliotto poi intervallo e poi ricominciamo con Fulvio Cortese quindi darei subito la parola a Luigi Capogrossi Colognesi forse è un titolo da ridefinire il tuo alla luce del carteggio di cui parlerai Pietro De Francisci nella storiografia giuridica del Novecento ma è un contenitore molto molto ampio anche perché poi questo carteggio per limiti di tempo non mi ci fermerò più che tanto anche se è importante proprio per definire un quadro storico preciso tu dici molto bene Luigi che in sostanza al diritto romano si associa una dimensione culturale e De Francisci in questo è stato un protagonista in dubbio e direi che la crisi attuale è anche legata a una profonda e crescente distacco delle nostre società europee da quella che è una matrice di fondo della loro storia che è la dimensione della storicità noi sotto l'influsso di grandi modelli e di grandi ideologie diverse stiamo perdendo il senso della storia e tanti aspetti del presente lo stanno dimostrando e questo incide profondamente anche sulla sulle dimensioni della scienza giuridica contemporanea che si trova a dover affrontare trasformazioni enormi e avendo impoverito questo che è stata in altri tempi una bussola proprio per governare le trasformazioni ma io sono qui in pellegrinaggio non nel consueto pellegrinaggio che vengo facendo a Venezia ogni volta che vengo in questa città tributando il necessario omaggio a uno dei punti alti nella storia delle società umane e del rapporto tra uomo e bellezza questo è un così si viene veramente da pellegrini e umilmente a Venezia ma vengo a tributare un pellegrinaggio anche per gratitudine perché effettivamente l'enorme capacità imprenditoriale di Luigi che voi tutti conoscete ma di impresa culturale seria e del tutto il mondo che a Padova fa capo anche se ormai è felicemente disseminato in altri centri universitari ha reso possibile adempiere un obbligo che io avevo verso questo grande antico maestro che avevo incontrato e frequentato perché appunto come accennavo a Luigi si sono ripubblicati giustamente gli scritti dai grandi del novecento da Raggio Ruiz a Volterra e tanti altri e in sostanza Eurestano Pugliese eccetera e questo di Francisci con tutti i suoi estratti che tra l'altro avevo conservato perché quando mi occupai sul suo incarico di cedere la sua biblioteca il giorno che gli si trasferì definitivamente a Fornia lasciando la casa di Roma io ne curai la sessione e mi restavano questi estratti e non mettere in circolazione una serie di scritti preziosi mi pesava ma la mia incapacità organizzativa era non mi giustifica ma spiega questo ritardo soltanto questo supporto formidabile non soltanto ha permesso di ridare vita a questi scritti che si dimostrano di un'importanza straordinaria ora che ce ne abbiamo sotto mani tutti insieme e lo accennerò subito dopo ma anche a riscriverli cioè non è la solita ristampa da statica che abbiamo in cui i vari scritti con tutti i piccoli refusi tutte le le dimensioni che il tempo dà ogni scritto conservano nelle ripubblicazioni ma ristampati completamente ricomposti completamente si presentano in una forma anche esteticamente veramente degna del maestro e di questo siamo grati due volumi sono già usciti più di duemila pagine e adesso ne sta uscendo il terzo quasi con mia sorpresa perché io non mi aspettavo che fosse tanto ricco il terzo devo dire questa a Roma sia Mazza che Mantovani che Lanza che lo stesso Garofalo che aveva aperto il convegno mettendo alcuni punti toccando alcuni punti chiavi abbiamo già esplorato con grande interesse alcuni aspetti fondamentali dell'opera di Rebuncici ma io qui vorrei appunto narrare una storia partire da una storia la storia che incomincia nel novecento e incomincia quando questa rivoluzione scientifica che è imposta e trascinata in avanti portata avanti da Scialoia e da quel mondo che con Scialoia si identifica da da quello straordinario genio che è stato Perozzi fino a Ferrini questo personaggio che riscuote l'ammirazione di tutta la scienza giuridica tedesca da cui gli italiani stavano andando ancora a scuola giustamente e ricordiamoci il giudizio di Momsen che dice che come il secolo diciannovesimo era stato il secolo di Savigny così il secolo ventesimo sarebbe stato il secolo di Ferrini riconoscimento da parte di un uomo certamente amico degli italiani ma molto severo come Momsen e tuttavia come tutte le previsioni anche questa era effime non si è avverato non si è avverato appieno perché Ferrini nel 1902 improvvisamente muore lascia spoglia pavia di questa straordinaria presenza che aveva allargato il campo delle esplorazioni oltre che delle conoscenze relative al diritto romano era il mondo delle province erano le tradizioni orientali che si erano poi inserite e comunque erano venute disciplinandosi ad opera delle scuole giuridiche che in Oriente continuano a operare quando già la pars occidentis è profondamente in crisi subito dopo i severi o probabilmente già con i severi o con l'ultima stagione dei severi ebbene questa scuola viene meno all'improvviso ed è lì che verrà il principale allievo ed erede non dico erede ma grande collaboratore di 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 Cialoia che è Pietro Bonfante dove insegnerà dal 1904 al 1916 quando verrà a Roma Bonfante aveva già un prestigio formidabile per le sue ricerche originali e che avevano mutato la cultura storico-giuridica italiana di fine secolo con il suo lavoro sulle res mancipe con le sue teorie sulla struttura sul carattere politico delle strutture familiari romani e Pietro Centro sono temi noti largamente esplorati quello che è interessante è che come scrive Talamanca nella commemorazione di Volterra che lui scrisse sostituendo la direzione quando scomparve il maestro tra Cialoia e Bonfante c'era quasi un gioco delle parti nel senso che Cialoia all'inizio del Novecento aveva già assunto un ruolo politico di un certo rilievo un senatore del regno impegnato diverse volte ministro membro di delegazioni compresa la commissione per il trattato di pazzi di Versailles eccetera e quindi è da lontà il presidente dell'Incei e il primo vicepresidente nel momento difficile dell'avvento del fascismo quando già quel vecchio organismo presieduto da Volterra cioè il loro maggiore degli antagonisti di Mussolini è in una situazione di grande difficoltà e lì si e lì si vede un bel gioco di squadra tra Vito Volterra grandi antifascista Cialoia invece che aderisce al regime seppure la sua matrice liberale resta quella che era ovviamente e comunque si barcamena e cerca di difendere le vecchie istituzioni dello Stato liberale rispetto ai nuovi barbari in quel contesto Bonfante si era fatto carico della formazione della scuola della individuazione della mobilitazione di nuove vocazioni scientifiche con uno straordinario successo se pensiamo che nei 10-12 anni che sta a Pavia dal suo insegnamento dalla sua capacità di contatto con gli studenti e se una personalità di primo ordine come Rotondi Castelli precocemente poi anche lui scomparso ma una grande promessa quello che fonda insieme a De Francisci e con Calderini nella scuola papirologica milanese un altro grande campo di conquista della nuova romanistica rispetto alle vecchie tradizioni pandettistiche che della papirologia proprio non sapevano che farsi e con De Francisci il primo allievo di Bonfante Albertario e lo stesso Ciappessoni una figura molto interessante e Bonfante poi continuava questo lavoro di promozione del diritto romano e di mobilitazione di nuove risorse anche a Roma dove eravamo come allievi tra i migliori romanisti poi del del novecento da Edoardo Volterra appunto il più anziano a Giuseppe Branca e a quel grande storico che è stato Frez ma De Francisci che si laurea nel 1904 già mostra e questo è attestato da diversi in diverse testimonianze che lui ha frequentato e sentito Ferrini prima della morte De Francisci mostra subito una 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 gamma di interessi storiografici diversi da quelle del maestro è vero che alcune delle sue ricerche riguarderanno il diritto di famiglia ma essenzialmente le sue ricerche fin dal dalla seconda metà del primo decennio del novecento quindi giovanissimo laureato vertono sulla sulla tradizione dei diritti e delle e sulle e anche su sui prodotti sulle opere giuridiche prodotte in Oriente nella pars orientis e sul diritto bizantino c'è un c'è un uno degli articoli più belli forse dell'intera raccolta sulla sulla scuola giuridica di Brito tra quinto e sesto secolo cioè a dimostrare che il corpus uris l'avventura di Giustiniana non è che viene dal niente ma viene da una fortissima culminazione scientifica che si conserva in Oriente e che si è invece già fortemente indebolita in precedenza in Occidente beh questa è una raffinatissima ricerca già di un di un vero e proprio maestro in sostanza più che di un giovane avviato alla carriera la carriera scientifica questa carriera che allora si svolgeva molto rapidamente le università si stavano arricchendo i nuovi quadri erano quasi subito una laura già mobilitati con i primi incarichi e poi con gli insegnamenti da come straordinari e dopo quattro cinque anni i più brillanti diventavano già ordinari De Francisci si interrompe questa carriera per la prima guerra mondiale lui questo servizio ovviamente nell'esercito apparteneva a una famiglia di forti tradizioni nazionaliste e indipendenti e e ridentisti la sua famiglia originaria viene dal Trentino avevano lasciato il Trentino nel 66 proprio per entrare e far parte del nuovo regno d'Italia e e quindi questa questo spirito nazionale è molto forte in Bofferti e in in De Francisci e spiegherà anche in parte certe scelte politiche che farà che farà in seguito ed è lì che dopo la guerra ha spostato e ha detto allo Stato Maggiore lo Stato Maggiore lo invierà a supporto dei lavori della Commissione di Versailles e lì De Francisci sicuramente forse probabilmente forse richiesto già dallo stesso Cialoia comunque certamente li incontrerà lui e lo stesso Cia Pessoni che sarà un altro che andrà a lavorare a Versailles incontreranno Cialoia il capo supremo di tutta questa di tutta questa nuova scuola romanistica gli anni immediatamente successivi vedono De Francisci arrivare alla cattedra qui a Padova alla cattedra ordinaria qui a Padova insegna a Padova e da Padova nel 24 verrà a Padova in quel frangente interviene e questo è stato già largamente esplorato data la manca anzitutto poi c'è un articolo di Andrea Moscazzi e poi Pierangelo Buongiorno è ampiamente tornato sul tema esplode uno degli affari scientifici accademici e delle beghe correlate perché poi ci sono sempre beghe e problemi di potere più misteriosi nella storia di questo diritto romano dell'istituto di diritto romano per istituto di diritto romano in Roma creato da Scialoia e che certamente in quell'epoca è il centro non soltanto di irradiamento della politica romanistica nel paese ma addirittura degli orientamenti dei forti dei aumenti di massima delle singole scienze giuridiche perché Scialoia esercita un'enorme influenza anche sul diritto civile ma su settori come la procedura civile che a lui si ispirano e c'è l'affare Carusi cioè il tentativo da parte di Bonfante di estendere l'ambito di competenza dell'istituto e dei temi di ricerca e di didattica anche all'insegnamento dei diritti dell'Oriente Mediterraneo che non era una questione da poco perché all'insegnamento dei diritti dell'Oriente Mediterraneo si collegava in realtà un grosso problema che vedeva in primo piano anche Scialoia che era il problema della creazione di un diritto colonialio per le colonie italiane allora l'Italia aveva le sue colonie e si poniva il problema di costruire dei sistemi giuridici e applicare da regolare nelle colonie era un discorso che interessava molto Scialoia e che si era impegnato ma soprattutto il tentativo è quello di sottrare alla facoltà di lettere di Roma dove insegnavano tra i più grandi orientalisti europei dell'epoca filologi Nallino Levi della Vida Guidi le competenze anche storiografiche della ricostruzione delle civiltà medio orientali dell'antico oriente mediterraneo delle civiltà cuneiforme babilonesi eccetera ma con estensioni anche se possibili all'Egitto questa partita si giocò per diversi anni esaltando una figura di avventuriero giuridico nella nostra accademia conosciuto sempre avventurieri del genere non c'è da me agli assi che era un vecchio allievo di Scialoia Evaristo Carusi che Bonfantri lanciò fino al punto che esso divenne ordinario nella facoltà giuridica romana io credo di spiegare questa passione di Bonfantri non soltanto per rapporti di amicizio di bottega diciamo così ma per una ragione ideologica molto forte e questa ragione ideologica poi si rivedrà si vedrà molto bene nella pietra tombale che proprio il mio maestro Volterra vorrà mettere ancora perché c'erano forti tensioni nel 37 alla vigilia delle leggi razziali con il suo libro su diritto romano e diritti orientali che però ebbe poca diffusione allora anche se poi è stato ristampato eccetera perché Carusi aveva costruito una teoria dell'unità dei popoli mediterranei che si fondava su una forzatura estrema delle tesi di Wenger dell'epoca dell'antica sull'antica e rex decite che sempre ispirandosi a quelle matrici evoluzionistiche del tardo positivismo ottocentesco tendevano a costruire dei grandi e fondandosi sulla matrice scientifica delle grandi studi di Mittaes sulle civiltà ellenistiche e orientali tendevano a creare un sistema di confronti e di parallelismi nello sviluppo delle istituzioni sociali e giuridiche delle varie civiltà Carusi semplificava dal tutto affermando un'unità etnico-culturale che non esisteva e su questo alla fine Nallino perse la pazienza e uscì un famoso saggio con cui si distruggeva totalmente la figura scientifica di Carusi perché si dimostrava che Carusi non conosceva le lingue semitiche quindi si era occupato di diritti di popoli di cui non conosceva la lingua quindi questo lo squalificò definitivamente e la cosa cessò Cialoia non ci si impegnò in questa vicenda ma la cosa più interessante è che il giovane dei Francisci nel 1921-22 prima di venire a Roma allievo diretto di Bonfante e da lui destinato a essere chiamato a Roma scriverà tre saggi importantissimi apparsi che sono stati pubblicati nel primo volume di questi scritti nei quali attacca frontalmente Carusi e questo già dà la dimostrazione della qualità dei rapporti scientifici perché vi immaginate che un grande maestro del presente o i piccoli maestri del presente che sono impegnati in un'operazione accademica in cui si stanno giocando la loro stessa posizione il loro stesso prestigio in facoltà e in ambito anche dell'Ateneo e che il proprio allievo gli smentisce le loro la propria la propria la propria scelta attaccando frontalmente e per la qualità e l'impostazione generale del lavoro il candidato che Bonfante in quel momento stava portando al centro della scena dell'istituto romano beh insomma non 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 ne vedo dei casi del genere questo mostra però anche l'alta qualità morale di Bonfante e di tutti quanti questi perché queste cose si potevano fare perché c'era un rispetto della ricerca scientifica che superava tutte le le differenze mi sono fermato su questo argomento perché qui si apre il problema del ruolo di De Francisci venuto a Roma nel 24 che è un ruolo molto importante a parte che lì incomincia la sua carriera politica nel 25 un anno dopo questo per volontà di Cialoia evidente diventa preside della facoltà appena arrivato e nel 30 diventa rettore dell'Università di Roma rettore dell'Università di Roma nel 1930 si poteva diventare soltanto se si era graditi a regime ovviamente e De Francisci d'altra parte aveva già aderito al regime fascista e ne sarà ricompensato o comunque ne sarà integrato quando nel 32 diventerà per tre anni ministro di Grazia e Giustizia ma quello che è importante è che a mio avviso giunto a Roma De Francisci e la tua attività scientifica di quegli anni è importantissima ed è certificata proprio da questi lavori più che forse dal corso di storia dell'editto romano che pure sarà importantissimo e che si sviluppa in seguito quello che è interessantissimo è il fatto che tutti questi lavori continuano a seguire sempre questi interessi papirologia quella papirologia che Shaloya già negli anni 80 e 90 nei primi numeri del bullettino favorisce perché se noi andiamo a vedere le firme annale del bullettino vediamo quanti contributi sulla papirologia e sulla pigratia vengono pubblicati qualche volta sono notizie che Shaloya di opere importanti che stanno apparendo in Germania soprattutto in questo campo proprio perché c'è una politica del diritto chiarissima in Shaloya di voler allargare il campo degli strumenti storiografici a disposizione dei romanisti perché il diritto romano ricordiamoci nel famoso lettere di programmatica di Shaloya a Serafini era un diritto morto non era più un diritto immediatamente utilizzabile per il presente ma diventa una componente fondamentale per la comprensione del presente attraverso la dimensione della storia questo è il progetto di Shaloya e questo viene portato avanti e ripreso in pieno da De Francisci nel mentre che appunto in qualche modo Bonfante pur teneva fede alla sua alla sue grandi costruzioni in un tempo completando queste ricerche sul diritto familiare e anche sui sistemi dei diritti reali soprattutto nelle loro trasformazioni in epoca arcaica sulla base delle sue ipotesi ma questo spiega anche secondo me la presenza di De Francisci questo spiega perché Volterra laureato siccome Fante nel 1926 due anni dopo la venuta di Francisci a Roma fa anche lui una cosa che oggi io mi sorprenderei che qualcuno facesse ancora almeno spero che qualcuno lo faccia cioè lui si mette che si è laureato su un tema relativo a un'opera del diritto romano ellenico diciamo che sta studiando tutti i temi legati come quelli di De Francisci alla parte orientale dell'impero Volterra a differenza di Carusi va a scuola di Nallino e di Leve della Vida io sono testimone perché poi qui io sono un relatore ma sono anche testimone oculare di alcuni passaggi la devazione che Volterra ha avuto sempre per questo grandissimo maestro è esemplare ma lui l'aveva conosciuto sui banchi dell'università perché era andato a studiare le lingue orientali ciò che Carusi non aveva fatto cioè fa un'operazione del tutto opposta e di forma da Carusi tant'è che nelle tante conversazioni Volterra raccontava parecchio anche se spesso è dai suoi silenzi che si capisce più che si capiscono più le cose che non da quello che diceva e Volterra appunto raccontava questa questa follia di questo Carusi lui ne parlava ci tornava spesso su questa cosa perché è una cosa che deve aver turbato una generazione di studiosi in sostanza e lui era profondamente legato ai letterati ai filologi e in assoluta quindi disarmonia con il suo maestro Bonfante perché Bonfante invece resta prigioniero di questa cosa e nel silenzio di Scialoia perché Scialoia lo sottolinea Talamanca non prende posizione cioè si rende conto che è un punto di debolezza di d'altra parte Bonfante queste impuntature incomincia a averle la polemica con Croce Gentile dove i due filosofi ci vanno giù pesanti a rileggere i loro testi non è che faccia molto onore alla filosofia italiana ma se noi pegliamo la famosa produzione di Bonfante del 1916 sul metodo naturalistico beh lì vediamo delle ingenuità tutt'ottocentesche che nel nuovo secolo non erano più non reggevano più questa idea di leggi generali dello sviluppo storico che quindi regolano gli stati delle varie società umani e quindi regolano anche le istituzioni giuridiche è una cosa che poteva scrivere Morgan che aveva scritto Maine ma siamo nel 1860 nel 1880 dopo Boas eccetera era difficile continuare a operare su questo e comunque la cultura europea si stava diventando in modo diverso in sostanza e quindi ma soprattutto altre polemiche come quelle con De Santis sono abbastanza ardite De Santis era uno che andava fuori si occupava di diritto anche lui era un grande storico comunque il fatto di utilizzare come fa Bonfante di utilizzare ciecamente Paes che era uno studioso ipercritico e qui si scopre già la vicinanza con l'ipercritica poi che porterà all'interpolazionismo e al supporto di Bonfante di Albertario e però questo di utilizzare Paes contro De Santis è dal punto di vista proprio delle tecniche e delle delle scelte accademi e scientifiche un po' azzardato ecco quindi in queste cose in questi anni c'è un irrigidimento di Bonfante e un qualche suo isolamento De Santis comunque trova una piena unità con Bonfante nella sua grande proposta che viene facendo nel 29 della palingenesi delle costituzioni imperiali la palingenesi non è soltanto una grande operazione di ricostruzione di un sistema normativo perché e questo è enunciato anche qui lo ritroviamo in questi scritti quello che c'è alla base di questo interesse sarà un lavoro che occuperà tutta tutta la la prima unità nel novecento fino fino ci abbiamo ancora la mia generazione ci ha lavorato a queste a queste schedature del dei delle costituzioni imperiali che si trovano in tutte le fonti letterarie epigrafiche e papirologiche ma non si è completato nel nostro istituto ci sono ancora gli scatoloni con tutto questo materiale che è importante è elaborato fino a un certo punto e poi è restato però lì ma quello che ci interessa qui è il fatto che De Franceschi era convinto che attraverso uno studio testuale della legislazione imperiale non soltanto nei documenti ufficiali raccolti nel codex o nelle novelle ma anche attraverso tutte le legislazioni che venivano a trovarsi nella letteratura varia e nei testi epigrafici e papirologici si poteva ricostruire il ruolo svolto dagli imperatori nella mediazione tra le tradizioni e le pressioni e le esigenze delle popolazioni locali nel mondo ellenistico e il modello classico del diritto romano questo è il progetto ed è un progetto che poi ritroveremo nei tardi studi che occuperanno tutta la la sua tarda stagione e raggiungeranno dei risultati di grande interesse che poi il suo vecchio allievo Volterra realizzerà poi nei tardi anni 50 e ancora negli anni 60 sono c'è un famoso è proprio a Venezia che svolge un'enorme relazione sul il testo delle costituzioni imperiali in cui si lavora su questa è uno dei grandi temi è un sistema che allarga la visuale del diritto romano e il modo di leggere il diritto romano nella sua funzione imperiale come grande costruzione di un sistema che è un sistema che si è espanso in tutto il Mediterraneo e che sta unificando civiltà diverse la parentesi del fascismo De Francis resta sempre un gentiluomo era un uomo fabile Volterra mi mandò a portargli la mia tesi il giorno dopo la discussione la tesi perché era un la mia tesi Umberto era esattamente quello che poi è stato aveva per oggetto quello che è stato il mio ultimo libro come si diventa romani come diceva Talamanchi io scrivo sempre lo stesso libro e ciò conservo ancora la copia con questa bella calligrafia elegante incorsivo di De Francis con tutte le sue annotazioni molto scupolose e io quindi poi ho frequentato De Francis proprio abbereverandomi perché essendomi occupato di problemi di origine delle strutture della famiglia delle grandi tesi bonfantiane essendo innamorato di Bonfante perché ho parlato con un tono critico ma io avevo una partecipazione emotiva verso Bonfante e andavo poi a interrogare questo che era stato il primo allievo di Bonfante e abbiamo avuto uno scambio importante bene quello che è interessante è che questo gentiluomo è stato un corpo estraneo dentro anche le dinamiche dei gerarchi fascisti che c'erano un'altra idea del potere anche se De Francis devo dire offre una base ideologica sia nell'occasione delle celebrazioni del milionario agusteo ma anche prima nella interpretazione del principato d'agosto che poteva essere utilizzata dal fascismo ma che il fascismo non ha utilizzato o non ha utilizzato quasi per niente prevarrà un'immagine di Augusto che è quella descritta da Sir Ronald Sein come un grosso avventuriero in sostanza capo di una banda di predoni che si impadronisce del potere punto e basta in sostanza proprio perché questa raffinatissima analisi di De Francisci nella quale lui utilizza già gli schemi weberiani di questo potere carismatico che per lui impasticcia un po' con questo poi questo insistente riferimento al paradigma della Führer è un che richiama negli arcani imperi però certamente lui propone una ricostruzione estremamente politica del potere che si fa istituzione del potere che realizzato che si trasforma in ordine in un nuovo ordine e questo è un punto chiave che poi riprenderanno gli arcani imperi dove dove lì la riflessione weberiana è utilizzata gli schemi weberiani sono utilizzati maggiormente io devo dire una cosa e questo lo dico come come studioso che io in questi ultimi venticinque anni più o meno io ho lavorato molto sul diritto pubblico e diritto e potere persistenza innovazione la terra eccetera eccetera e poi come si diventa romani e io De Francisci lo utilizza ovviamente i miei maestri in questo campo restano i maestri dall'ottocento fino a Bela però De Francisci tu lo vai a utilizzare perché ti serve quello che non ho utilizzato quasi per niente è quella storia del diritto che è stata schiacciata dal formalismo dei romani perché i romani erano formalisti Cassio Lione ma lo stesso Tacito si interessano in modo inesauribile del fatto per quale ragione Augusto si prende questo piccolo potere e si fa dare quest'altro riconoscimento eccetera però il fatto che De Martino si sia fatto si sia imprigionato in tutta quest'analisi che occupa un intero volume e che volume della storia di Roma beh in sostanza non spiega le dinamiche non spiega le dinamiche ma la storia del diritto non può essere una storia di che di ordinanzio o di definizione perché soprattutto il diritto pubblico è il potere è il potere che si fa istituzione è il potere che si impone nel tempo e che trasforma la società se vogliamo e quindi questo rapporto c'è in De Francisci e c'è molto meno e io credo la mia spiegazione è che De Martino da bravo marxista diligente come era allora lui Deber non sa nemmeno che esista e quindi resta a Tacito e a Cassione che ci dicono molto ma ci potrebbero dire molto di più se si fosse interrogato anche sul potere e lui poi con questo concludo e poi la mia dipendenza dagli arcana dai primordi a Civitatis primordi a Civitatis appare proprio quando io ho iniziato la sua frequentazione è un libro che sembra recuperare tutto il positivismo ottocentesco ma appunto rispetto al fatto che il grande legato di Bonfante si fosse disperso a partire dalla dal 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 secondo dal primo dalla prima metà del secolo insomma già negli anni trenta e quaranta si non regge la costruzione dogmatica del che sta alla base dell'ipotesi di Bonfante e si disperde ecco De Francisci si mostra infinitamente più moderno giustamente perché lui riprende tutto la logica della comparazione l'utilizzazione di discipline diverse e in queste qualche volta è anche un po' rozzo perché poi non possiamo sapere tutto dall'archeologia alla linguistica pariontologia eccetera però De Francisci qui lavora sul materiale senza anzi avendo dismesso nella sua premessa chiaramente l'idea degli stadi generalizzabili e estendibili indefinitivamente alle varie società umane negli stadi di sviluppo questo è l'abbandono definitivo di una visione evoluzionistica applicata alla storia ed è la riconquista alla storia di questa enorme area problematica che sono i problemi di origine i problemi delle istituzioni arcaiche che pure sono di grande importanza e questo si mostra che ancora questo uomo arrivato agli 80 anni era ancora un uomo di grande fecondità grazie non ho parlato scusate non ho parlato di questa corrispondenza in cui ho trovato 5 minuti ho ritrovato questo scambio di lettere tra De Francisce e Voltaire di una bellezza senza fine ho mandato una copia poi la pubblicherò subito dopo è un episodio molto drammatico un episodio duro uno scambio di ipto da 200 uomini egregio professore illustre tutto tutto in punta di penna nella quale con brutalità il vecchio maestro chiama a rapporto all'allievo dicendo ho saputo che lei sta cercando di negare l'ordinariato al professor Betti ma come si permette e questo risponde con deferenza eccetera poi c'è una lettera meravigliosa perché De Francisce continua a stringere insomma è inutile che è tergiverso mi hanno detto colleghi degni di fedi che lei si comporta in questo modo a che titolo questo Betti è un grande studioso e allora c'è una lettera bellissima anche emozionante in particolare per uno allievo che è stato molto vicino a Volterra perché lì esce fuori un'umanità era una persona che faceva più timore che non che suscitare simpatie Volterra non cercava di essere simpatico ma cercava di essere un uomo d'onore e in questa lettera lui dice ma io non gli schimio Betti per ragioni politiche non c'è la politica e riconosco a lei che lei non è stato mai fazioso quando ha fatto politica Volterra aveva firmato per prima la lettera con cui i professori italiani chiesero che De Francisci era stato sospeso dall'insegnamento nel momento delle provazioni e Volterra che era un importante figura dell'antifascismo sia per il nome che portava sia per aver preso la medaglia d'argento come partigiano perché ancora si narrava le sue gesta romane sia perché era tra i fondatori del CLN e insomma la sua firma che chiedeva che rientravi in servizio di De Francisci e lui riconosce anche in questo lettera che De Francisci non era stato mai fazioso poi gli dice ma non è questione di politica questo è uno è un nazista questo ha inneggiato alla fucilazione dei partigiani questo ha inneggiato ai campi di sterminio questo anche dopo che si è saputo tutto perché la stampa eccetera ci hanno fatto vedere che cosa è successo a Auschwitz questo continua a inneggiare al nazismo è per ragioni morali che io mi oppongo e allora c'è questo finale di De Francisci che dice allora sì allora ha ragione lei e allora possiamo di nuovo essere amici come un tempo quando lei era il mio allievo io sono maestro una cosa di una e questo rapporto stretto tra De Francisci e Volterra lo trovo certificato qui perché se non loro sono sempre stati quando ero in vita abbastanza ecco Volterra mi manda da Francisci ma poi non è che si incontro vanno a cena insieme però anche perché ho avuto storie evidentemente molto diverse e le scelte politiche non è che non pesassero indubbiamente però era restato un rapporto che era un rapporto scientifico e questo è certo era un rapporto che unì la Frezza Branca ma di questi lo sapevo scusate grazie ho letto grazie a te questo carteggio per l'emeritato non per l'ordinarietà per l'emeritore sì per l'emeritato si opponeva alla delibera che doveva essere all'unanimità per l'emeritato c'è stupendo perché si vedono forme diverse da quelle dell'oggi e e tra avversari che più lontani di così veramente non potevano le risse non erano tra l'adio di polli vero grazie grazie professore Capogrossi ma ha ripreso l'inquadramento di una figura complessa ma nel frattempo io ho visto che è arrivato anzi da tempo Fulvio Cortese e quindi essendo tu qui e da un po' di tempo forse possiamo rispettare l'ordine con l'intervallo dopo di te e le altre due relazioni discussione anch'io volevo chiedere qualcosa al professor Capogrossi ma la discussione la facciamo complessiva alla fine e il titolo della relazione di Fulvio Cortese gli scritti di Prora contro Vento e la traiettoria culturale di uno studioso travolto dalla storia Prora contro Vento è quel libro in cui sono raccolti tutti gli interventi soprattutto nel giornale Il Tempo che io ho letto e scriveva proprio bene però di Francisci e sui contenuti ti esprimi tu dal punto di vista della forma io posso dire che si capisce che è una scrittura di getto ma è una scrittura elegante raffinata penso prego Fulvio grazie mi scuso ancora per il ritardo dovuto a coincidenze ferroviarie ma ora sono qui e sono contento di poter partecipare a questa bella iniziativa di restituzione e di riconquista di un'eredità come recita il titolo dell'incontro il mio sguardo a De Francisci non è quello dello studioso del diritto romano della storia del diritto romano ma è uno sguardo un po' diverso di chi da tempo si interroga su un problema che nonostante siano passati tanti anni non è stato fondamentalmente ancora approfondito a dovere non sono mancati gli studi tanti studi diversi ovviamente relativi a tante figure che hanno attraversato una stagione complicata come quella che ha attraversato De Francisci e il problema è quello del rapporto tra scienza e potere da un lato ed è il problema anche quello del rapporto tra scienza e storia del proprio tempo quello che accade quello che succede attorno a chi fa scienza e penso che ognuno di noi potrebbe avere delle risposte diverse e ne sono state date perché non qualche anno fa ormai due storici del diritto molto noti Italo Birocchi e Luca lo schiavo pubblicarono un bel volume sulla sul fascino del i giuristi e il fascino del regime questo era il titolo del volume ma chi volesse trovare questo volume che si può consultare facilmente anche online si accorgerebbe che questa ricerca ma è una delle tante che sono state fatte non porta a delle conclusioni nemmeno convincenti perché il testo molto interessante è una galleria di esperienze sono dei medaglioni tra cui c'è anche De Francisci affidato alla penna di Carlo Lanza ma non c'è un tratto comune cioè ognuno di questi autori viene ricordato ma con difficoltà si riesce a comprendere dove stesse la seduzione per un determinato assetto storico politico forse già questa è una risposta forse è già effettivamente una risposta che le vie con cui i giuristi in particolare poi potremmo uscire dai giuristi e trovare anche figure di altri intellettuali naturalmente si sono avvicinati al fascismo e per quale ragione gli scritti di Prora Controvento secondo me ci danno una qualche chiave in più di lettura sono scritti eleganti come diceva Luigi Garofalo sono scritti pacati sono scritti anche da cui traspare una certa malinconia di fondo e da cui però traspare anche un atteggiamento che io credo abbastanza evidente chiaro dell'autore anche nei confronti della sua esperienza perché è messa tra parentesi espressamente ci sono due o tre interventi in cui vorrebbe dire qualche cosa ma dice che non lo può dire e che sono cose passate che vanno messe un pochino da parte però ci sono molti altri interventi in cui la postura dell'autore è abbastanza chiara ed è in qualche modo anche riconducibile ad un certo filone di giuristi che hanno fatto determinate scelte in un determinato momento perché mi sono più occupato di alcuni giuspubblicisti più che gli altri ma possiamo trovare delle analogie come anche delle differenze ma cerco di andare un po' con ordine questi scritti vengono raccolti in volume dopo un po' di anni perché in realtà risalgono alla prima metà degli anni 50 fino all'inizio degli anni 60 sono dei pezzi come che oggi diremo culturali destinati ad essere pubblicati nella terza pagina del quotidiano sono una miscellanea in cui naturalmente si recensiscono anche alcuni testi e lì si nota la profonda cultura di De Francisci ma si fanno anche delle osservazioni sulla realtà presente sulla società sul costume su quello che accade all'Italia del dopoguerra e di quegli anni che sono gli anni poi della ricostruzione e sono gli anni di una modernizzazione anche del paese e di fronte a tutto ciò che accade in quel periodo la postura di De Francisci è come titola in uno di questi suoi pezzi quella di un anticonformista e spiega che cosa significa il suo anticonformismo di cui sono animati tanti di questi interventi il suo anticonformismo è una sorta di opposizione estrenua in qualunque sede e di fronte a qualunque manifestazione di meccanicismo imperante questa è una espressione sua nei confronti di un nuovo ordine fondato sulla quantità anziché sulla qualità di un materialismo ed economicismo che nella cultura diventa dirigismo e nei confronti di un conformismo totalitario che lui contrappone espressamente al totalitarismo politico lo fa quasi con ironia dice ma insomma ci si lamentava di un certo totalitarismo politico ma oggi c'è un conformismo totalitario e questo conformismo totalitario che cos'è? La nascita della società dei consumi come si impone in questa Italia della ricostruzione e della crescita è il benessere economico che arriva con i suoi ritmi e che impone ad ogni soggetto di essere innanzitutto il consumatore utente diremmo così oggi è questo che infastidisce profondamente De Francisci e allora in altri pezzi questa sua critica diventa una critica alla velocità una critica alle macchine una critica alla galera cittadina rispetto alla quale la montagna le librerie e le chiese sono dei rifugi sono dei temi che tornano costantemente una critica nei confronti dello spettacolo dello spettacolo come degrado del modo di fare spettacolo tra l'altro lo fa in un testo interessante dove racconta di quali erano gli spettacoli nell'antica Roma e del degrado dello spettacolo nell'antica Roma e termina quello scritto chiedendosi se non si possa dire la stessa cosa del tempo in cui riflette del tempo che sta vivendo in quel momento e a queste critiche che sono voci che leva nei confronti del degrado oppone determinate immagini il recupero di Orazio come campione dell'approfondimento interiore il rifugio e il luogo in cui l'approfondimento interiore è possibile oppone l'industrializzazione e la produzione che è alla base di questa crescita economica alla tradizione artigiana e definisce la produzione a lui contemporanea in quel momento il meccanismo economicistico materialista di cui dicevo prima come un vero e proprio flagello e utilizza anche una contrapposizione abbastanza interessante quella tra i nani e i giganti per contrapporre la civiltà a lui contemporanea in quel momento come civiltà dei nani che avidi continuano a scavare e a consumare sono immagini quasi dal signore degli anelli diremmo oggi viene contrapposta un'umanità avida che è animata dal bisogno del piacere e della soddisfazione che diventa anche arrivismo che diventa anche arrivismo rispetto invece alle figure dei giganti che vengono affiancate ad una sorta di mito degli eroi usa esattamente l'espressione eroi vi ho riassunto in poche parole alcuni di questi testi perché sono interessanti questi testi cosa ci ricordano un pochino ma intanto ci ricordano che una parte degli intellettuali non solo dei giuristi che attraversarono il periodo fascista e che sopravvissero al periodo fascista e si reinserirono nella società sia pure in una posizione laterale coltivarono proprio questa posizione e la potremmo definire come la posizione del savio c'è in questi testi un intervento dedicato al savio un intervento dedicato ad una figura che lui dice di frequentare ma in realtà noi capiamo che in quella figura si ritrova anche lui cioè qual è la postura del savio la postura del savio è quella di chi si distanzia anche da se stesso dei propri errori li mette tra parentesi per poter elevarsi programmaticamente ad un altro livello quindi io quando dice non mi interesso di ciò che è stato non ne voglio nemmeno parlare perché è superato prendo una posizione diversa ed è una posizione che spesso essendo proprio anche di altri intellettuali di quegli anni sopravvissuti a quel periodo diventa anche una posizione ironica per cui le istituzioni democratiche dell'Italia repubblicana vengono utilizzate per criticare le degenerazioni dell'Italia repubblicana c'è un articolo sulla cultura per l'appunto in cui si lamenta si lamenta di un piccolo episodio di cui la stampa aveva dato notizia cioè in cui ci si si era posti il problema ma se fosse opportuno nell'Italia democratica pubblicare le opere di alcuni autori autori non italiani in realtà in quel caso l'autore era un personaggio effettivamente un po' discusso rumeno che aveva svolto come dire anche incarichi delicati ma era stato perseguitato poi anche dal nazismo ma aveva preso però in un tempo precedente posizioni molto a favore del regime itleriano si discuteva della ripubblicazione di alcuni suoi saggi di alcuni suoi interventi e alcuni giornali diciamo di una parte politica per la quale De Francisci comunque non stava criticavano questa riedizione e lui dice ma insomma la Costituzione repubblicana ci dice che l'arte e la scienza sono libere la cultura non può essere monolitica non esiste una cultura democratica la cultura democratica è fatta di tante voci non vedo perché perché non si debba non si debba ripubblicare anche questi anche questi autori ciò che conta dice è come dire lo spirito con cui ci si avvicina a queste opere e questo tema dello spirito è anche molto interessante perché soprattutto nei primi scritti raccolti in questo volume l'ordine degli scritti non è indifferente a ciò che ci vuole dire l'autore il tema dello spirito è interessante perché i primi scritti sono tutti dedicati a che cosa vuol dire essere uno studioso nell'università a che cosa vuol dire essere un docente a che cosa vuol dire insegnare all'università e non solo e che cosa vuol dire anche studiare o imparare attraverso la lettura sono osservazioni che anche decontestualizzate credo sposeremo tutti qui nel senso che c'è una una fortissima vocazione allo studium nel senso più disinteressato e c'è una polemica anche forte molto attuale se vogliamo contro la specializzazione della didattica universitaria oggi c'è la retorica del saper fare rispetto al sapere De Francisci se fosse con noi certamente non si ritroverebbe no però ecco tutto questo prepara la postura del savio la prepara perché il tema è quello di acquistare un punto di vista diverso una prospettiva completamente decontestualizzata decontestualizzata in cui il savio che ha fatto esperienza su di sé di ciò che è accaduto critica la degenerazione del presente che è degenerazione come è stata quella della parentesi è proprio una postura argomentativa che viene costruita molto abilmente soprattutto nell'ordine in cui vengono raccolti perché probabilmente originariamente questi testi non avendo questo ordine non facevano trasparire così chiaramente la postura naturalmente in questi testi si possono dire molte cose ma non vorrei uscire dal tema che avevo pensato di affrontare perché questi testi sono interessanti anche come dire relativamente ad alcune questioni di metodo ci sono dei testi sul significato della tradizione rispetto al tradizionalismo ci sono dei testi molto interessanti sul metodo sulla storia sulla storiografia sullo studio delle civiltà sulla chiara posizione per una sorta di prospettiva genealogica che parte da lontano pur rigiottando storie universali ascoltavo mentre appena arrivato le osservazioni precedenti e si trovano molto in questi testi però l'aspetto interessante appunto è questa postura del sabio che diventa la postura che buona parte del pensiero conservatore italiano e poi di destra assumerà da quegli anni in poi come pensiero antimoderno noi qui vediamo De Francisci che pur senza dire quello che dirà questa corrente intellettuale a partire dagli anni settanti in particolare pone già le basi di questo tipo di come dire reazione critica a ciò che accade va detto che questa postura antimoderna sarà anche di Pasolini io mi sono stupito moltissimo nel leggere tante di queste pagine con accanto gli scritti corsari di Pasolini sono pressoché coincidenti la critica alla società dei consumi la sparizione dei luoghi come dire che per gli antichi erano sacri c'è un riferimento al bosco al lucus ma è il tema del paesaggio che viene distrutto è molto forte questa questa presenza nel testo ed è interessante vedere 50 anni scusate 20 anni prima negli anni 50 20 anni prima l'emergere di un pensiero antimoderno che come dire oscillerà tra destra e sinistra nell'Italia repubblicana con alterne fortuna e qui è posto in maniera in maniera molto chiara ma l'aspetto che più mi ha incuriosito è che si ricollega molto agli studi che mi avevano portato un po' di tempo fa ad approfondire le traiettorie di questi giuristi in particolare pubblicisti che vivono l'esperienza del fascismo e che ne sono fortemente attratti l'aspetto è quello che si trova in un articolo in un articolo dedicato al funerale di Verdi cioè un articolo può sembrare anche quasi secondario i funerali di Verdi che è pagina 73 di questo volume in cui Verdi viene utilizzato in maniera molto chiara nello stereotipo del campione del risorgimento italiano quindi questo è il tema ma perché è interessante questo aspetto perché qui De Francisci fa o molto meno confessa una forte eredità presente nel suo modo di rapportarsi nei confronti della società e del potere che era tipica di tantissimi giuristi tantissimi all'inizio del novecento e nei pubblicisti si vede molto era proprio la retorica del risorgimento fortissima e questa retorica come agiva in tutti questi soggetti agiva comunicando diverse idee la prima è che la storia è fatta di trasformazioni profondissime di cui le persone il popolo diremmo sono protagoniste quindi i cambiamenti passano attraverso il popolo che si deve rendere conto della missione che ha in un determinato momento in un determinato momento questo era tipico di giusti pubblicisti che tra fine ottocento inizio del novecento hanno poi preso una determinata traiettoria per esempio di grande favore per l'intervento nella grande guerra e poi dopo la grande guerra sono diventati anche fascisti quindi abbiamo una continuità da questo punto di vista ed è molto interessante notare che questa fascinazione per il risorgimento si ricollega al tema dello spirito perché? perché in un altro di questi articoli dedicato all'altra figura per eccellenza della retorica risorgimentale Dante Dante come vettore dell'italianità e della cultura nazionale troviamo il nesso molto forte quindi il nesso molto forte tra l'idea di un popolo che è protagonista della storia e che deve interpretare ciò che in un certo momento accade e che gli apre le strade della storia e allo stesso tempo che cosa questo significa per il popolo italiano per la cultura italiana e che cosa è l'attitudine dello spirito e come si insegna l'attitudine dello spirito infatti nel saggio nell'articolo su Dante se la prende un po' con chi celebra il poeta ma non lo legge o non lo fa leggere o non lo insegna in modo tale che ne venga percepita la profondità la profondità nel contesto della storia culturale nazionale perché è interessante questo aspetto intanto perché dicevo è comune a tutta una serie di intellettuali e di giuristi in particolare ma è comune anche a gius pubblicisti che hanno preso strade completamente diverse io ho avuto la fortuna di approfondirne un paio per un po' di anni e poi ci torno sempre sopra quando trovo cose eventualmente nuove perché sono sempre un po' delle miniere allora uno era lui girava lui girava che in realtà che diventerà fascista morirà da senatore del regno era stato sindaco di Roma aveva aderito al regime non era un giurista di regime nel senso così forte la sua adesione non era simile a quella di De Francisci però aveva una cultura risorgimentale fortissima e aveva aderito al fascismo perché riteneva che il gesto rivoluzionario del fascismo potesse portare a realtà quella cultura di popolo e De Francisci in questo testo su Verdi dice questo slancio del risorgimento c'è stato fino alla prima guerra mondiale poi poi si è perso dice si è perso questo slancio qualcosa è accaduto dice subito dopo non nomina neanche il fascismo ma dice qualcosa è accaduto poi questa questa cosa si è in qualche modo si è in qualche modo spenta ecco se si guarda l'esperienza di Luigi Rava con l'esperienza di De Francisci da questo punto di vista sono perfettamente collimanti ed entrambi aderirono al fascismo altro giurista che non aderì al fascismo e che aveva la stessa formazione che aveva una fortissima cultura risorgimentale che fu interventista nella prima guerra mondiale al punto che non potendovi partecipare perché aveva un difetto un difetto alludito quindi l'avevano riformato fece di tutto per potersi arruolare e riuscì ad essere arruolato fu Silvio Trentin Silvio Trentin è un campione della resistenza ed è un campione nel pantheon dei resistenti non solo italiani europei campione se vogliamo anche del rigore assoluto nei confronti dei compromessi del tempo nel dicembre del 1925 vengono approvate le famose leggi fascistissime tra cui c'è quella che prevede il giuramento giuramento che ancora non viene imposto nei primi giorni del gennaio del 1926 Silvio Trentin allora professore ordinario all'istituto Reggio Cafoscari si dimette alla sola lettura di quel testo e se ne va in esilio in Francia quindi figura che non solo non aderisce al fascismo ma lascia il suo paese tra l'altro lascia la sua casa è benestante insomma ricorda di essersi proletarizzato per sopravvivere di aver capito che cosa vuol dire stare dalla parte più povera quindi abbiamo una traiettoria completamente diversa ma è interessante notare che il retroterra culturale è identico identico nella fascinazione per la storia risorgimentale e identico nella fascinazione per l'importanza delle vicende del popolo capace di interpretare un certo momento certo in questo caso Silvio Trentin dà un'interpretazione diversa dice la fedeltà alla missione risorgimentale non è il fascismo ma è la lotta contro il fascismo e si lamenta della flessibilità dei suoi stessi maestri nei confronti delle teorie sulla rigidità o flessibilità dello statuto albertino quella è una vicenda molto interessante perché in uno scritto che Trentin pubblica in Francia nel 28 e che in Italia viene tradotto solo nel 1984 a proposito di eredità riconquistate le eredità vanno sempre riconquistate e lo si fa sempre troppo tardi in questo scritto lui si lamenta del suo maestro Giovanni Vacchelli e in una nota dice il mio maestro mi ha sempre insegnato che questa era l'interpretazione sulla modificuità dello statuto come ha fatto a diventare fascista dice in maniera molto lo sto un po' riassumendo lo fa in modo tecnico cerca di contestare gli argomenti che vengono utilizzati ma l'argomento è interessante quindi traiettorie molto diverse animate però da una stessa cultura risorgimentale di base che torna costantemente e sul dopo su quelli che sono sopravvissuti dopo lui girava e Trentin non sopravvivono a quell'esperienza lui girava muore nel 40 muore da fascista non vede non vede la guerra non vede cosa accade sul suolo italiano Trentin muore prima muore nel 44 non vede la liberazione ma un grandissimo pubblicista che è stato fascista e ha scritto anche sull'Enciclopedia Italiana la voce fascismo nel 1938 Oreste Rannelletti un nome tutelare dei giuspubblicisti italiani sopravvive a quel periodo e si trova in una situazione non molto diversa da quella di De Francisci non aveva avuto compromissioni istituzionali così forti non subisce l'epurazione però viene messo un po' da parte e cosa accade? Beh accade che questo autorevole giuspubblicista uno dei pilastri della scuola italiana di diritto pubblico della prima metà del novecento decide di dare alle stampe una nuova edizione del suo corso di istituzione di diritto pubblico ci mette un po' nel senso che come insomma la guerra finisce nel 45 c'è la costituente c'è la costituzione 48 lui pubblica questa edizione nel 53 ci mette un po' potremmo pensare che questa edizione sia stata così sofferta perché è costruita sulla nuova costituzione ha studiato l'edizione abbastanza simile a quella che c'era prima della costituzione ma soprattutto è corredata da una prefazione interessantissima intitolata al giovane lettore al giovane lettore quindi si rivolge da maestro che ha insegnato per tanti anni prende la posizione del sabio fa anche lui una cosa analoga e si rivolge ai giovani che devono studiare diritto pubblico in questa nuova temperie però non mette a differenza di De Francisci tra parentesi la sua esperienza anzi la prima pagina di questa prefazione è molto interessante perché è una missione di colpa dico colpa in senso tecnico dice abbiamo sbagliato usa il plurale si appartengono ad una generazione di studiosi che avevano creduto che un certo rigore della forma negli studi universitari avrebbe potuto tutelare il paese e la nazione sul piano spirituale ecco ancora il tema spirituale che torna il rigore della forma come garanzia abbiamo sbagliato tutto quello che è successo dice dal 39 al 43 usa questa delimitazione tutto quello che è accaduto ci dà la prova storica del nostro errore e della nostra responsabilità affermazione fortissima nella prima pagina poi si leggono le altre pagine e si resta abbastanza sconcertati perché l'autore comincia ad analizzare il grande evento cioè l'entrata in rigore della costituzione costituzione che racchiude principi importantissimi tutela dei diritti inviolabili il principio di eguaglianza e lui dice ma in fondo questi sono principi vaghi sono cose generiche siamo sicuri che abbiano un tenore veramente giuridico ma queste erano critiche che anche Calamandrei rivolgeva alla dizione di alcune formulazioni assomigliano molto ad alcuni principi eterni all'alterum non ledere dice cita il grande patrimonio della tradizione romanistica poi ci sono delle missioni che oggi si danno allo Stato delle missioni sociali ma queste ci sono sempre state Vicenza c'era anche prima dice notate la riconfigurazione totale no la riconfigurazione totale e al termine della prefazione dice bene funzione sociale dello Stato sì ma non socialismo dice nella prefazione dell'edizione immediatamente successiva che esce due anni dopo quest'ultima frase scompare quindi evidentemente in due anni come dire l'autore si era reso conto che il cambiamento era già molto forte e che quella sua posizione non poteva più essere sostenuta e quindi si corregge però ecco mi faceva piacere mettere in luce questa traiettoria per notare la differenza rispetto a De Francisci De Francisci mette tra parentesi omette non dice non torna non torna e lanza nel suo bel contributo dice quanto avremmo voluto che ci dicesse qualche cosa no da questo punto di vista premoderno ma che ci dicesse qualche cosa e invece non ce lo dice Ranelletti lo dice ma che cosa dimostra dimostra una come dire una delle ragioni che per altra parte di tanti intellettuali portò all'adesione al fascismo cioè una sorta di visione conservatrice dello Stato liberale cioè di ciò che c'era stato in precedenza molti storici contemporanei sono abbastanza convinti oggi nel sostenere che l'anticamera forte del fascismo non fu la rivoluzione fascista che non c'è mai stata ma fu in realtà l'adesione di classi che noi definiremmo borghesi medio alte a che cosa ad una soluzione politica di tutela di un determinato ordine economico sociale innanzitutto per evitare un'altra rivoluzione quella che lo stesso Ranelletti paventa possa accadere dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana il rischio era il socialismo il fascismo poteva ristabilire un po' di autorità quindi il liberismo conservatore autoritario ma questa posizione non è quella di De Francisci non è quella di De Francisci perché proprio in quel testo su Verdi che vi stavo citando poco fa l'idea risorgimentale per De Francisci è un'idea di rivoluzione e cambiamento cioè quello che lui lamenta e lo si capisce molto bene è che non ci sia stata la rivoluzione che non ci sia stato quel cambiamento totalizzante che nel fascismo in realtà era rimasto a promessa e non si era per l'appunto realizzato e qui ci sono delle continuità fortissime con la critica che per esempio Silvio Trentin fa al fascismo quando dice dalla Francia nei suoi scritti appunto dell'esilio che nel diritto dello stato fascista non c'è nulla di giuridico non c'è nessuna riflessione sull'ordinamento giuridico è semplicemente la giustificazione del diritto del bastone del diritto di una classe dirigente dice che ha occupato le istituzioni il senso della dittatura ci piacerebbe sapere se nella mente come dire De Francisci dopo la guerra di De Francisci di questi scritti questa riflessione amara ci fosse o meno stata perché vale la pena di ricordare che da ministro della giustizia De Francisci provò a presentare delle proposte di riforma veramente rivoluzionari c'è una molto famosa del processo civile che è stata anche studiata da Cipriani c'è un bel articolo su quella su quell'esperienza ma quella proposta mai è stata accolta come la proposta di potremmo dire abolire completamente la separazione dei poteri il Parlamento non avrebbe più dovuto avere alcuna funzione quindi la rivoluzione è tradita allora è interessante a notare quindi la retroterra risorgimentale che crede molto alla trasformazione nel destino di un popolo che in alcune traiettorie intellettuali porta all'antifascismo molto forte in altre porta ad una fiducia nel fascismo che poi pian piano scema nel tempo come Rava che pian piano poi non scrive più tendenzialmente e in altre situazioni porta ad una sorta di tradimento tradimento che però non porta l'autore alle estreme conseguenze non si sottrae prima del tempo e viene travolto dalla storia col senso del titolo di questa mia introduzione posizione che poi lo porta effettivamente ad assumere la postura del sabio che è uno dei tanti modi con cui gli intellettuali non solo giuristi che hanno attraversato questa fase complessa cercano di riqualificarsi ma non è una mera postura perché alla base notiamo la presenza di alcuni argomenti in radice che saranno quelli di una cultura d'opposizione che nell'Italia democratica del dopo guerra lentamente si faranno strada a destra come anche a sinistra però perché come vi dicevo li troveremo completamente anche in Pasolini ecco l'interesse per me di questa traiettoria molto particolare che credo abbia ancora molto molto da dire ed è esemplare perché ci aiuta a mappare le ragioni di queste esperienze interrotte e poi riprese sotto sotto altre maschere se vogliamo grazie grazie Fulio ma nei nostri lunghi discorsi che attraverso nel novecento Carl Schmitt Sintzheimer che tu stai traducendo con tutti i suoi medaglioni in quel caso dei giuristi ebrei sì no la postura del Savio mi fa venire in mente anche proprio Carl Schmitt perché poi ero stato attratto dall'idea di Capogrossi Luigi Capogrossi Coronesi di insomma di riconquistare l'eredità dei francisci perché mi sembrava che in qualche modo fosse una edizione italiana di una storia già vista in Germania invece parzialmente no ma parzialmente sì perché l'epimeteo cristiano di Schmitt a fine guerra era uno strumento in mano alla providenza e poi scrive capolavori come il nomus della terra dalla postura anche lui solo un cenno a questa cosa perché è importante poi dopo c'è una discussione quindi magari si tornerà su questo però una differenza forte secondo me c'è perché Schmitt non è propriamente antimoderno in questo senso Schmitt è il giurista meccanizzato questo è un dato molto importante in una celebre intervista agli anni 30 Schmitt era una pop star per cui veniva anche intervistato e in un'intervista radiofonica lui spiega che cosa significa per lui positivismo per lui positivismo non è il diritto posto è l'aderenza ad un criterio positivista scientifico aderenza alla realtà e alle sue trasformazioni in atto il popolo ma anche la tecnologia e la scienza c'è questa forte fiducia che invece qui anzi defrentisce come dire uno Schmitt contro il mondo meccanicizzato del primo novecento eccetera che poi è quello di Doivre vabbè ma dopo ne parliamo dopo perché sennò avremmo dovuto anche sulla prima relazione discutere invece facciamo tutto alla fine ma siamo in linea perfetta con i tempi quindi un quarto d'ora per un coffee breath che mi pare sia vabbè in questo piano no? qui poi chiederei a Umberto Laffi che è anche membro dell'istituto di presiedere alla seconda parte del nostro pomeriggio fra un quarto d'ora dunque un quarto d'ora Grazie a tutti. 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 a tutti.